Salve a tutti! Ciao! Siamo qui per augurarti un felice Natale e soprattutto trasmettiti un messaggio positivo, vero Francesco? Sì Andrea, giusto! Soprattutto per chi ha messo momentaneamente da parte magari un progetto di vita, ad esempio una casa più grande per la propria famiglia, magari uno spazio esterno dove far giocare i bimbi o il cane o... Trasferissi una nuova città o nello stesso quartiere di Salerno o addirittura una casa con la vista mare. Sì, infatti per questo siamo convinti che il nostro futuro prossimo possa regalarci delle sorprese positive. Siamo pronti quindi a scommettere su noi stessi ma soprattutto su di voi. Per questo abbiamo una grossa novità, vero Andrea? Sì, ci stiamo trasferendo nella nuova sede qui a Salerno Centro al Civico 146 di Corso Caribaldi. Il messaggio vogliamo darti oggi è di non mollare il tuo sogno. Credici perché noi abbiamo creduto nel nostro. Come concludiamo Francesco? Proprio come dicevi tu. Noi abbiamo creduto nel nostro sogno e vogliamo che nel 2021 tu possa credere nel tuo. Ti aspettiamo presto su una nuova sede. Tanti auguri di buon Natale. Auguri! Ciao! 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 Ciao a tutti!